Ok, stiamo avviando un gioco che si chiama Dark Shadows Dark Shadows Army of qualcosa Ok, questa cosa l'avevo già vista, fa cagare Però, insomma Sì, questa è una cosa che, questo caricamento Ti aiuta appunto a caricare il gioco e ci sarà sempre Sempre quando? Sempre A ogni avvio ci sarà un caricamento e poi ti chiederai anche perché ci sarà questo caricamento Adesso, adesso ce l'ho di piano, piano piano Allora, prima di tutto, per andare in partita Abbiamo Passiamo il volume perché Dobbiamo A7 Engine, che cazzo di engine è questo A7? Brian Medie, Burian, Burian Si bullano tutti di questa cosa E se credo che la nostra voce non si sentirà perché c'è un bordello nero Si bullano tutti di questo gioco, attenzione Guarda che titoli epici e inscrivabili Ma davvero? Ma santissimo del link Ah no, con la spazio Con la spazio, ma te li dovevi vedere perché proprio No, aspetta, io voglio abbassare il volume perché se no non si sente quello che diciamo Allora, ragazzi, tutto in diretta, eh Che cazzo sta succedendo? Allora, video Allora, io ci ho messo buoni 5 minuti per capirla questa cosa Allora, io non... Che cazzo sta succedendo? Dov'è il 1080? Se ti stai chiedendo se c'è il 1080 Non c'è Non c'è il 1080 Ah, mettiamo così Ombre dinamiche Il 1080 per il 1080 Eh, vabbè, ma sono giochi vecchi Ricordiamo quando è stato fatto sto gioco È stato cacciato a novembre dell'anno scorso Cani maledetti 2013 Allora, facciamo una cosa Spostiamo un po' le nostre voce Ecco qua, così, perfetto Allora Object Details Se tu hai capito Quando è rosso Vuol dire che è più forte A manetta, quindi... C'è anche Blood Effect Cinematic Blood Stiamo scherzando? Allora, video aspect Forza 4... No, di forza Cinematic... Vabbè, sì Ok, salva Ok Questo è il bellissimo Al massimo della grafica Catronica, che schifo Allora, musica Abbassiamo Eh, vabbè, devi salvare perché... Anche se la musica io te la volevo far sentire, eh Eh, ma non... Io te la volevo far sentire Ok, allora ragazzi Adesso forse possiamo giocare con un audio decente Ok, metti New Game New Game Sei emozionato per questo nuovo viaggio? No, io sono curioso perché... Sono belli i filmati No, aspetta Non ci proviamo Ma qua sono belle Guarda che bella regia Ah, e poi ti vorrevo Sentire pure Il doppiaggio Perché si capisce che in inglese è fatto veramente Veramente bene Anche i cavalli sono belli Cioè Guarda Come dici? Ma tutti i cavalli Ci hanno una calza in faccia Ma sembra uno di quei filmati in CG Della Playstation 1 Ma fatto male però Ma la cosa bella è che come spesso accade Poi quando entri in gioco Ti stupisci Perché la grafica è meglio Eh, non so scherzare Perché ti stupirai Madonna Santissima Della coronata Ma senti Hai giro tutto il quarto Tu sapevi come schippare Io ci ho provato Ma non sono stato in grado Ma è un gioco È un gioco che potrebbe essere stato sviluppato nell'83 C'è un nuovo caricamento Madonna Santissima Ma quel caricamento all'inizio E io voglio ricordare che stiamo giocando su delle schede video con le contropalle Sì Con dei processi un 6 core Insomma Quindi Vediamo 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 questo gioco Mi piace che si è riempita la barra Ma di partire Ok Ogni tanto C'è scritto le frasi di Martin Luther King Eccetera Gesù santo È importante che tu legga Io non vedo niente Ci sono due cavalli inclinati E' importante che tu legga sopra Allora F1 mi dice i controlli Corri C Free Yourself Con la C mi libero Questa cosa Poi te la spiego la C Vabbè Vaffanculo Adesso tu qua Da buon esperto Che sta succedendo? Ah sì Che è sta cosa? Poi ti faccio vedere che Se mantieni premuto Salta molto Eppure meglio Ma stiamo scherzando Però io ti farei tornare un attimo indietro Perché lì per lì Non ci fai caso Girati verso le scale C'è qualcosa che Che non funziona Perché sei alto con 3 grammi Sì in effetti C'hai C'hai il punto di vista Di un topo proprio Oh guarda quanto è bello quel cavo Madonna Quello di Call of Duty Madonna ragazzi Guardate Guardate Vi faccio vedere Guardate il punto in cui le texture si congiungono Sotto il collo Vabbè Che cazzo devo fare? Posso picchiare? Vabbè Devi trovarti Devi trovare la chiave Che ti apre una porta Dove ci sarà La spada Allora Devo sicuramente luttare Questo titolo Cioè Ha una brutta malattia Che sta succedendo? Perché io non mi potevo muovere? Ma ogni tanto succede Ok Io a un punto di vista Zoomatissimo sto gioco Ah Si può tornare indietro Ma io te lo farei giocare Così come l'ho giocato io In questo modo Cioè ragazzi Questo è un muro Questo è un muro In un gioco che è uscito A novembre 2013 Ti dà una sensazione di merda Madonna Ma è proprio disgustoso il gioco Q Con la Q Che faccio Con la Q Perché non hai letto Dovevi leggere Si allora Dobbiamo leggere Allora La Q Sto diventando cieco Perché veramente ho una sensazione di morte Use the Q key To access the first row Of the inventory 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 Non lo so Quindi Allora Se non ho oggetti A cosa c'è Allora E' importante Che tu usi anche i numeri Notare che quando io premo F1 Poi se ti premo F1 Non esce Quindi se premo ESC Che cosa fa? Mi apre il menu E poi devo ripremere ESC Un'altra volta La merda La merda Aspetta che non è Non dire che è brutto il suo gioco Perché deve ancora arrivare Deve ancora arrivare Vabbè ho capito Non stai a vedere niente Non stai a vedere niente Sì ma che cazzo devo fa' Eh devi esplorare No un gioco così Come si esplora In questo mondo di merda E non hai visto niente Vai vai Continua 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 vai Vai sotto Vai sotto Che c'è una porta Al didattile Ah devo andare qua Ok Allora io parlo Perché l'ho finito Questo primo livello Ci ho messo mezz'ora Per arrivare al secondo livello E non ho voluto andare oltre Cioè Non sono proprio Voluto andare Ah il mio punto di vista Non può abbassarsi oltre Madonna Madonna Signori Abbiamo trovato Un degno rivale Non ancora Non ancora hai visto niente Non ancora hai visto niente Tu dici che peggiora Allora premi uno Uno Che cazzo Ma che cosa tira Cosa tira Aspetta che non hai visto niente Tira dei sassi No non puoi scegliere Però Ma perché Ma che cos'è questa cosa Cioè allora Col sinistro del mouse Fa questa cosa qua Quando c'è il sole Capito Ti riparo Col sinistro Madonna Col destro tira le polpette di patate Madonna Che merda Tira in aria la pietra Segui la pietra Segui la pietra Su tutte cose che ho scoperto Ti sto commuovendo Ragazzi Te concher Segui la pietra